Uè compai che fai non partecipi al contest di Ucalabress Vi ricordo che grazie a Instant Gaming da oggi avete la possibilità di vincere un gioco gratis Per questo fantastico contest Le piattaforme supportate sono tutte quindi Nintendo, PS4, PC Basta solo uscire il vostro gioco preferito ad esempio Fortnite E cliccare sulla cosa che vi piace di più ragazzi Ad esempio io voglio il Fortnite Neoversa più 2000 V-Bucks PS4 Del valore di 25€ Clicchiamo qui ragazzi Clicchiamo su tutti i punti più uno che non sono altri che i nostri social Per aumentare le nostre possibilità di vittoria E facciamo let's go Grazie per la vostra partecipazione All'uscita di questo messaggio vuol dire che siete entrati ufficialmente nel contest Mi raccomando ragazzi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale E supportatemi come creatore JKPR-Ucalabress Uè ragazzi io sono Calabress e vi dobbiamo vedere in questo nuovo video di Fortnite Signori ci siamo finalmente Quest'oggi vi mostrerò il mio spot, il mio landing preferito Il mio atterraggio come volete chiamare lo chiamate Che mi ha permesso di aumentare tantissimi punti in poco tempo Vi ricordo che 3200 punti in questa season Per adesso sono abbastanza raga Anche perché cominciate a droppare 40 punti Magari scendete in zone che non conoscete Cominciate a droppare, droppare, droppare Vi prendete di nervoso E poi chiudete il gioco definitivamente Comunque venite in normal Per evitare questo ragazzi Vi consiglio di seguire passo passo questa piccola guida sul mio spot preferito Cosicché è da superare la fase iniziale Che è quella un pochino più difficile Ma prima di cominciare ragazzi vi invito a lasciare un bel like Iscrivetevi al canale E commentare qui sotto sul vostro spot preferito E qual è la vostra tattica migliore Inoltre ragazzi se vi piacciono queste tipologie di guide Fatemi sapere Così continuerò questa tipologia di format E vi porterò sempre nuove belle guide fresche Per poter migliorarvi nel panorama di Fortnite Quindi cominciamo subito Per questo video ragazzi utilizzeremo ovviamente la modalità arena Però in modalità server privati Prima cosa da fare ragazzi Quando state giocando in arena Vedere dove parte l'autobus Da dove vi porta E vedere se la nostra zona di interesse È lontana oppure vicino dalla traiettoria dell'autobus In questo caso è abbastanza vicino Però per farvi vedere il drop ragazzi Andiamo a corso commercio Nella zona vicina ai commerci ragazzi Sul lato sinistro dove ci sta il camion Cosa importante ragazzi Un buon landing Scendere prima degli altri Perché altrimenti siamo fregati Vi ricordo che in questo metodo Sono riuscito ad arrivare a 3200 punti In maniera semplice ragazzi E senza dropparne tantissime E perdere la voglia di giocare Puntiamo su questo ponte In direzione del commercio Prima cosa da fare ragazzi Vedere se sopra il tetto Ci sta una R Se ci sta una R ragazzi È importante prenderlo In questo caso mitraglietta Non possiamo fare nulla Se ci sta una R invece Possiamo controllare questi tetti qui Se c'è qualcuno che sta spaccando il tetto dall'alto O lì Oppure se qualcuno è andato a prendere quella chest In questo caso Abbiamo quasi una free kill da fare Scendiamo giù Qui solitamente c'è un'arma Cominciamo nel rompere Queste robe in metallo Mentre ci muoviamo Per andare a prendere la cassa Scudini e pistola Seconda cosa da fare ragazzi Vedere qua sopra Se ci sta qualche Se ci sta un po' di loot Solitamente qui ci sta qualcosa Questa è una delle casse di munizioni Molto importante Per chi vi dà un bel boost Di munizioni iniziali Cassa qua sopra ragazzi Non salite perché perdete tempo Rompetela immediatamente da sotto Spendiamo il cecchino Spaccate qui Se la zona è tranquilla Potete optare per distruggere Immediatamente Il camion Ed evitare di entrare e perdere tempo Luttate ragazzi Rompetete anche questo camion Se la zona invece È un pochino più Movimentata Aprite la cessa Entrate subito Qua dentro Altra cessa Da rompere Altre munizioni Altro materiale Da fare E poi proseguiamo ragazzi Quest'altra porta Altra cassa di munizioni Qui dietro Ricordatevela Nel mentre ci spostiamo Ragazzi Continuiamo a fare Del materiale Ovviamente quello più Base possibile Perché dobbiamo essere Molto veloci Nel loot Questa continuiamo a farla Qui non c'è nulla Continuiamo A parte la granata Se la zona è tranquilla Ragazzi Vi consiglio di Distruggere immediatamente Questo albero gigante Perché vi dà un sacco di legno E vi consiglio di distruggere Anche questa pietra Perché darà circa 70 di mattone Se riusciamo A altro legno Apriamo questa porta Rompete queste robe Di legno qui Metallo pure Molto importante Saliamo Legno Qui solitamente ci sta Una cassa di munizioni Eccola qui Altra cassa di munizioni Ragazzi Qui un'altra cassa Normale Altre munizioni R Però prendiamo la R Vediamo quante munizioni abbiamo Già abbiamo 120 munizioni di R Ragazzi E sono un botto In singolo Ve lo posso garantire E non è ancora finita qui Altre munizioni Rompiamo questi pallet di legno Molto importante Perché siamo Ci sono 83 di legno Nell'arco di Di 4 secondi Siamo già fullati di legno E nel mentre non abbiamo smesso di lutare Questa è la cosa importante Copritevi Importante Rompete questa Questa roba Prendete qua del loot Qui altre munizioni Aprite questa qui Perché ci sta La cassa di altre munizioni Non ho preso il fucile a pompa Salite sopra E si è quasi conclusa Diciamo La ronda No? Cosa si può dire La rotation Abbiamo quindi Full di legno Senza il massimo Dello sforzo Cioè con pochissimo sforzo Ricordatevi che inoltre Gli avversari sono impegnati a lutare Quindi Se c'è qualcuno Che è droppato Nella zona delle case Prima di arrivare In questo punto Ci metterà Un bel po' Perché si farà Tutte le case Continuate nell'ultima rotation Ragazzi Entrate qui dentro Ultima parte Bende Nulla di importante Finita questa rotation Se non trovate nessuno Avete finito questa parte Dei commerci Che ci ha fullato Di tutte Tutte le munizioni necessarie Pompa non l'abbiamo preso noi 160 munizioni di assalto Cecchino Scudi Scudoni Tutto quello che Che serviva Adesso abbiamo due opzioni Se la safe è qui Possiamo decidere di fare Il giro lungo Da dietro Per evitare qualsiasi conflitto Qui a corso commercio E salire da questa parte qui Ragazzi Ecco qui Qui sopra ci sta Una piccola base Da poter distruggere Per fare il metallo Oppure proseguire Ed essere temerari Nel fare qualche kill E salire su quella casetta lì Nel mentre ci facciamo Metallo qui Ovviamente con Con le macchine Con l'autobus Ci sono tantissime altre casse O se preferiamo Uno spot più safe Dobbiamo salire qua sopra E aspettare appunto la safe Quindi ragazzi In pochissimo tempo Abbiamo fatto tantissimo materiale Mattone Metalle Tutto quello che Che ci serve Abbiamo un bel Tantissime munizioni Da poter spammare Sul nostro avversario E vi dico la verità ragazzi Solo in alcuni casi Sono stato talmente sfortunato Da non avere la possibilità Di finire la parte iniziale Però vi posso garantire ragazzi Che questo spot Non è Non so per quale motivo Non è ambito da tutti i giocatori Che giocano in arena Non so perché ragazzi Ho trovato sempre pochissime persone Quasi nessuna Se non Ovviamente se la triottiera Dell'autobus È proprio sopra Corso commercio Della prima mappa iniziale Altrimenti ragazzi Gente preferisce Bantano palpitante Però avete meno possibilità Di sopravvivere Alla Alla base All'iniziale Se seguite questi piccoli accorgimenti Inoltre Potete trovare Delle barche Sia qui Che qui Delle barche ragazzi Precisamente qui Perché qui c'è un cottage Di legno Quindi troverete un sacco di barche Potete pescare Potete fare tantissime cose Per entrare in safe E giocarvela In maniera più pulita possibile Per cercare di resistere Ovviamente la fase iniziale Che è quella Più rompiscatole Perché se cominciate a droppare Senza riuscire a prendere armi Diventa frustrante come cosa E non vi godete al massimo L'arena Che ovviamente È abbastanza difficile Specialmente a livelli elevati Wow abbiamo trovato anche un lama ragazzi Quindi questo è proprio Il nostro spot principale ragazzi Un lama così Spawnato dal nullo Ovviamente ragazzi Ogni spot Ha le proprie Le proprie note Positive E le proprie note negative Non è detto che voi Vi troviate bene Con questo Diciamo con questo posto Io mi ci sono trovato sempre bene Mi ha fatto Diciamo aumentare Di punti in maniera facile Per chi mi ha visto in live Lo sa ragazzi Io ho incrementato Le mie percentuali di vittorie Spero che anche Per voi sia lo stesso Mi raccomando ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate nei commenti Scrivetemi il vostro landing preferito Nei commenti E a quanti punti siete Se vi piacciono Queste tipologie di video Guida più che altro Sul come migliorare All'interno del panorama di Fortnite Fatemelo sapere sempre Nei commenti Ragazzi Dal commento Lasciate un bel like Una bella iscrizione Supportatemi come creatore JKR-Ucalabres Grazie mille a tutti voi Ci vediamo al prossimo appuntamento Ciao belli Ciao belli No, 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 no! Make you feel better Make you feel better